In compagnia di Carlo Pettinari, Presidente dell'Associazione Ciclostile, siamo seduti in un parklet, una zona adibita precedentemente al parcheggio, alla sosta delle auto, oggi recuperata in termini di mobilità sostenibile per la sosta delle persone. Tutto questo fa parte, anche questo, del progetto Zona 30 che è stato inaugurato nei giorni scorsi qui a Villa Potenza. Come è partito questo progetto, come si è svolta la collaborazione con il Comune per arrivare a tutto questo? Innanzitutto volevo fare una precisazione, sono 10 metri quadrati restituiti alla cittadinanza, la macchina sposta una persona all'80%, un parklet può contenere 15 persone, quindi diciamo che per tutte le attività commerciali qui presenti hanno più vantaggio nel possedere questa struttura davanti invece che un qualsiasi parcheggio. Il progetto della zona 30 è stato, abbiamo cominciato a lavorarci con il Comune circa un anno e mezzo fa, individuando, facendo un'analisi sul territorio comunale, quindi inizialmente erano, avevamo messo, avevamo provato, ho cominciato a creare un percorso con la zona di Sforzacosta, con il borgo di Sforzacosta, poi siamo vari vicisseduti, poi hanno portato a sperimentare questa situazione a Villa Potenza. Che cosa significa zona 30 esattamente? Allora la zona 30 è una zona dove vengono applicate delle tecniche di moderazione del traffico, dove si riduce la velocità veicolare, quindi dai classici 50 all'ora in ambito residenziale vengono portati a 30. Innanzitutto voglio precisare che questa iniziativa stiamo rispondendo a una direttiva europea del 2011, che prevede che tutte le zone residenziali abbiano una zona 30. Tutto questo implica anche una modifica della segnaletica orizzontale sulla strada e una modifica anche della strada, delle dimensioni della strada. Esattamente, perché la zona 30 non è imporre un cartello che sappiamo benissimo, che non è un cartello che fa la differenza, la velocità viene rispettata se la corsia subisce delle modifiche. Più ho una strada larga e dritta, più sono incentivata ad accelerare. Questa è fisica, è la norma, diciamo, è il corpo umano fondamentalmente. Quindi agendo sul ristringimento di carreggiate e sul disassamento orizzontale, che abbiamo creato 50 metri più su, chiamato chicano o gincana, questi sono dei piccoli dispositivi che permettono il raggiungimento dell'obiettivo, cioè far andare le macchine a 30-35 all'ora. Se non avessimo adottato questi dispositivi, le macchine comunque sarebbero andate almeno a 50-60 all'ora. Capisco, è una cosa totalmente nuova, ma è totalmente nuova anche in ambito regionale, è totalmente nuova anche in ambito centro Italia. Le zone 30 in Italia si stanno diffondendo molto in Emilia Romagna, dove c'è una regione, ci sono degli organi più preparati, più contemporanei. Com'è questa zona 30, Mirko? Secondo me è molto buona, nel senso che riusciamo a far passare le macchine a Villa Potenza a una velocità moderata, perché questa era diventata una pista più che un borgo, e far capire alla gente che bisognerebbe sfruttare la pretella dietro e per noi commercianti sicuramente ci sarà più qualità e meno quantità, e il che è il buono. Penso che è nata per un buon motivo, questo qua di rallentare il traffico dentro Villa Potenza è una cosa fatta abbastanza bene. Credo che, come è stata applicata, ha delle grosse lagune, secondo me, a questo punto. Di che tipo? Del tipo che hanno spostato i parcheggi nel lato sinistro, quando invece tutte le attività commerciali si trovano sul lato destro, una cosa che non c'è proprio senso. Quindi questo potrebbe rappresentare un problema per le attività commerciali? L'attività, sì. Questo qua sicuramente è un problema per tutte le attività che si trovano dentro Villa Potenza. No, che ne penso? Che i parcheggi fatti male tanto qui. Non c'è spazio per le macchine? Ma, carità. C'è tre posti, ecco. C'è quelli tre posti lì e basta. Se poteva pensare meglio la facciamo. Come stava prima, stava meglio. No? Lei che ne pensa? Penso più o meno, sì, non neanche a me, io pure pensionato. Però spero che c'è la Mendel, qualcuno gli sta bene. A qualcuno, a qualcuno, ne ho sentite diversi, ieri sera, ieri. Atti che va bene. Però no, i commercianti specialmente non gli sta bene. perché la farmagia gli ha levato i parcheggi, la fascia bianca la ristrettizza, non si può fermare perché c'è la linea, visto no? Allora la farmagia non gli sta bene. Lei da residente invece come la vede? Non mi interessa, io la vedo forse bene pure. Lei. Lei.